Sulla scia della settimana scorsa oggi vediamo come pronunciare un'altra lettera croce e delizia di noi italiani perché non fa parte della nostra fonetica e quindi ci risulta un po' più ostica da ricreare. Sto parlando della R. La lettera R non si pronuncia quasi mai in mezzo alle parole perché diventa un dittongo, una vocale lunga, pensa party, folk, hard, ok? E non si pronuncia in finale delle parole perché diventa la schwa della settimana scorsa. Remember. A meno che tu non sia americana e vuoi calcare sulla R e quindi remember. L'unica occasione in cui la R si pronuncia è all'inizio delle parole se la parola, se la R è seguita da una vocale. Right, rain, rainbow, ranch, ok? Per darti un'idea del suono che devi riuscire a ricreare foneticamente e pensa a un cane che ringhia. Ok? È questo suono qui. Naturalmente non devi fare proprio il cane che ringhia perché sennò è un po' deficiente. Però è per suggerire come impostare foneticamente la bocca per riuscire a pronunciare questa lettera. Ora non ti resta che cercare le parole con la R e divertirti a pronunciarne il suono. Ci vediamo la settimana prossima. Bye!